Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Rifiutano la pizza perché a farla sono due ragazzi di colore. Il titolare di un locale alicata solidale con i suoi dipendenti denuncia con sdegno i gravi episodi di razzismo. Condannato a sei anni e otto mesi, in abbreviato per favoreggiamento aggravato Andrea Bonafede, accusato di avere fatto da intermediario tra Matteo Messina Denaro e il medico Alfonso Tumarello. Un nuovo fascicolo in procura investe l'ex rettore dell'Università di Messina Cuzzocrea nel mirino dei magistrati gli appalti in emergenza Covid. Operazione contro il caporalato in provincia di Caltanissetta, 16 indagati fra intermediari e imprenditori che sfruttavano i migranti per la raccolta di pesche, olive e carciofi. Si è spento a 83 anni, il giornalista catanese Franco Zuccalà aveva lavorato al quotidiano La Sicilia ad Antenna Sicilia, volto storico di novantesimo minuto e della Domenica Sportiva. L'Etna continua a dare spettacolo, registrati 200 episodi di attività in 10 giorni. Mario Biondi, Tananai e la catanese Anna Castiglia saranno protagonisti del Capodanno in piazza Catania. A Messina arrivano i pubbi. Ancora ben trovati, nuovo caso di razzismo. È venuto in un ristorante dell'Agrigentino, esattamente a Licata. Alcuni clienti di un locale hanno rifiutato la pizza perché a prepararla sono state le mani dei dipendenti di colore. Sentiamo Davide Sarto. Il fatto più eclatante è stato quello di un signore, un 50enne, che praticamente ha ordinato le pizze al telefono, le pizze d'asporto. Quando è venuto a riterarle si è accorto che dietro al bangone c'erano due ragazzi di colore, due miei dipendenti che sono di colore. Senza preoccuparsi di loro davanti a loro ha detto le pizze me le hanno condite loro, io le pizze non le voglio. E' la denuncia shock di Gianluca Graci, titolare della pizzeria La Fuazzeria Allicata nell'Agrigentino. L'episodio di razzismo vissuto nel suo locale è stato per prima denunciato sulla sua pagina Facebook perché stanco e amareggiato di continuare a ricevere tanti messaggi dal tenore razzista. A causa della presenza dietro il bancone del forno impegnati a preparare le pizze o a servire ai tavoli, due ragazzi di colore, entrambi assunti con regolare contratto. Un messaggio fresco di questa mattina, i miei ragazzi solo perché sono di colore sono stati chiamati spacciatori, persone che strupolano le ragazze, delinguendi. Gianluca Graci non si scompone, rispedisce al mittente tutte le accuse e trova il conforto e la solidarietà dei suoi dipendenti di colore. Continua sembra così, c'è una persona singera, onesta, quello che ha da dire, te lo dice in faccia anche che ti fa stare male, però è una persona onesta e io vorrei dire che continua così. E quindi per questo razzismo a me, anche a me non mi interessa, perché il titolare non mi comporta male, mi comporta tutto bene, così andrà bene e sto lavorando pure meglio. Il mio pensiero è che non penso a queste parole che mi fanno male, perché lo già capiscono, quindi niente si fa. Il gruppo di Palermo ha condannato in abbreviato a sei anni e otto mesi per favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza della pena Andrea Bonafede, cugino e omonimo del geometra di Campobello di Mazzara che ha prestato l'identità Matteo Messina Denaro. Bonafede è accusato di avere fatto da intermediario tra il boss, allora latitante, e il medico Alfonso Tumbarello, nel periodo in cui il capo mafia era in cura per il cancro al colon che poi l'ha ucciso. L'imputato faceva avere a Messina Denaro le ricette intestate al geometra e le prescrizioni firmate da Tumbarello necessarie alle terapie. Bonafede si è difeso sostenendo di non sapere che il reale malato era il padrino, ma di essere convinto che ad avere il tumore fosse il cugino che voleva però tenere riservata la patologia. Un sacchetto con all'interno la testa di una capra con due cartucce in bocca è stato trovato appeso al cancello d'ingresso di un'agenzia di onoranze funebri di Favara, siamo in provincia di Agrigento. La procura ha aperto un'inchiesta e delle indagini si stanno occupando al momento i carabinieri. C'è una nuova inchiesta che coinvolge l'ex rettore dell'Università di Messina, Cuzzo Crea, già travolto dallo scandalo giudiziario che gli è costato il posto. Questa volta nel mirino del magistrato ci sono gli appalti per l'emergenza Covid. Francesco Triolo. Non c'è solo l'inchiesta sui rimborsi ad interessare l'Università di Messina. Un altro fascicolo sull'era Cuzzo Crea sarebbe aperto a Palazzo Piacentini, proprio di fronte all'Ateneo, e riguarderebbe la gestione di appalti e affidamenti nel periodo dell'emergenza Covid. L'inchiesta della procura di Messina, retta attualmente dalla vicario Rosa Raffa, nasce dai rilievi fatti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che durante una istruttoria del 2022 ha parlato di inadempienze e di irregolarità negli appalti banditi dall'Università di Messina. In questo momento sarebbero iscritte al registro più indagati. Gli appalti contestati dall'autorità riguardavano tutta una serie di lavori efficientamente energetico del patrimonio immobiliare dell'Ateneo, i lavori di restauro conservativo dei prospetti e la riqualificazione del patrimonio immobiliare universitario, l'esecuzione dei lavori per la riconversione in residenze in due plessi dell'Università, appalti milionari oltre a quelli che hanno riguardato affidamenti di forniture e servizi. L'ANAC contestava all'Ateneo l'insussistenza di presupposti per l'applicazione del regime derogatorio previsto dal decreto semplificazioni che prevedeva la deroga per i casi di sussistenza ai ragioni di estrema urgenza strettamente derivanti dall'emergenza sanitaria allora in corso. Presupposti che secondo l'ANAC non ricorrevano negli affidamenti considerati e nei settori indicati, le situazioni di urgenza prospettate dall'Ateneo si potevano ricondurre alle situazioni di incurie e carenze manutentive protrattresi nel corso degli anni non strettamente collegate all'emergenza Covid, così come invece avrebbe richiesto la normativa di riferimento. E torniamo al caso della maturità ripetuta al liceo Galilei di Spadafora nel Messinese, perché adesso è indagata la docente per i messaggini inviati nella chat di classe. La procura contesta la rivelazione di segreto d'ufficio. Giusy Lazzara. C'è un risvolto penale per la maturità che 11 studenti hanno dovuto sostenerle per la seconda volta al liceo Galilei di Spadafora nel Messinese. Iscritta nel registro degli indagati, la professoressa di storia e filosofia che ha inviato il messaggio sulla chat con i suggerimenti delle materie da preparare per l'esame. La procura di Messina le contesta il reato di rivelazione di segreto d'ufficio. Nelle cartelle l'inchiesta si legge che la prof aveva mandato 5 argomenti da studiare per iniziare il colloquio sulla chat di classe, che non includeva però tutti gli alunni. È stata proprio una delle studentesse esclusa dal messaggio, avendo ottenuto un risultato negativo alla prima prova rispetto agli altri compagni, a presentare un esposto sui risultati finali dell'esame. L'ufficio scolastico regionale, alla fine delle verifiche, aveva deciso di annullare le prove orali. Dal canto loro, i ripetenti della maturità si sono rivolti al TAR di Catania, che aveva rigettato l'istanza. Tutto da rifare per i maturandi, che già si erano iscritti al primo anno di università. Le prove bis, qualche settimana fa, hanno fatto gioire alcuni ex liceali, che hanno ottenuto un voto maggiore del precedente. Confermato invece il voto per la studentessa che aveva presentato l'esposto. La piaga del caporalato nel Nisseno. Ci sono 16 indagati per sfruttamento del lavoro. I braccianti, infatti, venivano sottopagati e spostati di campagna in campagna, con mezzi fatiscenti e pericolosi. Tonino De Mana. Sfruttati, sottopagati, spostati da una campagna all'altra, spesso a bordo di auto e furgoni in pessime condizioni di sicurezza. Emergenza caporalato nelle campagne di Caltanissetta ed Agrigento, dove 16 persone sono indagate dalla procura di Caltanissetta per sfruttamento del lavoro. Le indagini, iniziate alla fine del 2020, hanno visto impegnati la squadra mobile e il nord dei carabinieri. Gravi gli indizi di colpevolezza nei confronti di alcuni imprenditori agricoli o proprietari terrieri di Delia, Sommatino, Palma di Montegliaro e Ravanusa. Gli operai reclutati nel capologo Nisseno erano trasportati dai caporali a bordo di mezzi fatiscenti che si spostavano su strade sterrate per raggiungere di buon mattino gli appezzamenti di terreno per raccogliere pesche, olive e carciofi. Lì stavano ore ed ore. In estate, sotto il sole cosciente, in inverno, all'acqua e al freddo per pochissimi euro. Il tutto approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori in prevalenza extracomunitari. I caporali avrebbero trattenuto anche una parte del salario da loro stessi consegnato ai braccianti. È importante sottolineare che i soggetti che sono stati coinvolti in attività di indagine sono tanto i datori di lavoro quanto i caporali perché essendoci una richiesta da parte delle aziende agricole e quindi dei datori di lavoro degli imprenditori agricoli va da sé che il caporale trova molta facilità nel reperire i lavoratori sia nel centro urbano di Caltanissetta sia vicino a quelli che sono i centri per migranti così da poterli poi condurre nelle campagne tanto della provincia di Caltanissetta quanto della limitrofa provincia di Agrigento. Sulla vicenda prende posizione la Flai CGL Sicilia l'inchiesta di Caltanissetta si legge in una nota è l'ennesima dimostrazione che lo sfruttamento del lavoro è un fenomeno duro a morire. Quello che manca all'appello oggi è l'iniziativa della politica per la prevenzione senza la quale difficilmente si potranno fare passi in avanti. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato da Ali El Abed Baghera il cameriere tunisino accusato di avere ucciso lo scorso 4 novembre a Palermo a colpi di pistola il dipendente di un altro locale, Badre Budgemai, algerino di 41 anni ma residente da anni a Palermo. Il cameriere tunisino si è sempre professato innocente. Ballarò è l'albergheria a colmi di rifiuti. Oltre all'emergenza, criminalità e al degrado degli edifici due quartieri, quartieri storici di Palermo, rischiano di trasformarsi in una discarica a cielo aperto. Maglio Viola. Dai rifiuti alla droga passando per il degrado ambientale degli immobili. Non c'è pace per l'area del mercato di Ballarò di Palermo, parte centrale del quartiere dell'albergheria. Un'area densa di storia, di cultura, di persone, di palermitanità. Come se non bastassero i problemi di un quartiere che deve affrontare il dominio territoriale ormai consolidato da parte degli spacciatori, il fulcro del mercato del crack si trova proprio lì, arrivano anche i cumuli dei rifiuti. Non è una novità, era già successo altre volte negli anni passati. Nel centro residenziale ed in quello storico padonale non accade ormai più, ma all'albergheria sì, rifiuti che si accatastano perché la RAP, la società che si occupa della raccolta, non riesce più a trovare il tempo per raccogliere anche lì. Rifiuti che scivolano in mezzo alla strada creando anche turbative al traffico, oltre a problemi genico-sanitari. Rifiuti che diventano soggetto delle foto dei turisti che vanno a visitare le tante bellissime chiese. Allo Zen, altro quartiere ma alla periferia nord della città, gli abitanti non ne possono più, tanto che quei cumuli di rifiuti li danno alle fiamme. A Ballarò avviene molto meno, quasi mai. Strade strette e stabili fatiscenti fanno sì che un eventuale incendio di un cumulo di rifiuti rischierebbe di far danni molto gravi. E fra i rifiuti e il degrado, gli spacciatori trovano a nascondigli aree dove muoversi indisturbati. E in questo contesto il contrasto ai reati, tutti i reati, diventa difficile sempre di più. E si è spento a 83 anni il giornalista catanese Franco Zuccalà, aveva lavorato al quotidiano alla Sicilia, ma anche ad Antenna Sicilia. Il volto storico di novantesimo minuto della domenica sportiva ne fa un ritratto e un ricordo. Marco Gullà. Una guida per tanti giornalisti, un volto noto, un maestro per molti. E' morto nella notte all'età di 83 anni il giornalista Franco Zuccalà, originario di Catania, una lunga carriera in RAE, redattore per la Sicilia, la Gazzetta dello Sport, il giornale Tutto Sport, ha lavorato anche per Antenna Sicilia con Pippo Baudo, è stato per anni inviato di novantesimo minuto, ha raccontato il calcio ma non solo, con quella sua ironia pungente, ma mai fuori posto. Olimpiadi, mondiali ed europei di calcio, la Coppa d'Africa dal 1958 al 2018 ha seguito tutti i più importanti avvenimenti sportivi. La morte di Franco Zuccalà ci impoverisce. Per noi giornalisti sportivi viene a mancare un maestro, un modello e in particolare un amico che è andato sempre fiero delle sue origini catanesi e che l'Unione Stampa Sportiva Italiana, che in mio onoro presiedere in Sicilia, ha sempre sentito vicino. Tanti i riconoscimenti ricevuti, in tanti anni di giornalismo ha intervistato personaggi della statura di Nelson Mandela, Gianni Agnelli, Sofia Loren, oltre ai più grandi campioni del calcio, da Pelé a Maradona, da Cruyff a Beckenbauer. Ha collaborato alla realizzazione di numerosi saggi come 100 anni di Serie A, ha scritto il re di Broccolino, Champions Forever, brividi mondiali e poi, in occasione dei sui 80 anni, Franco Zuccalà, 80 anni, mille avventure, le tre vite di un inviato speciale con penna, taccuina e telecamera. Un gigante del giornalismo. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale alle agenzie. Sciopero dei metalmeccanici oggi alle portinerie della zona industriale del polo petrolchimico siracusano. Una mobilitazione finalizzata ad ottenere migliori condizioni di lavoro, salari più alti e uguali diritti. Adesso all'Etna 200, episodi di attività in 10 giorni. È il racconto che fa sui social un vulcanologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, Boris Bank, che ci racconta come sta in questi giorni il vulcano. Sentiamo. Da spettacolo fa una pausa e poi replica. L'Etna da 10 giorni va in scena con un'attività eruttiva molto particolare dal cratere di sud-est, che si manifesta in forma di brevi episodi di attività stromboliana, separati da intervalli di calma totale, con una cadenza di un episodio ogni 60-80 minuti circa. E il ritmo è talmente regolare che si può praticamente prendere appuntamento con uno o due episodi, recarsi in un bel punto d'osservazione e aspettare lo spettacolo. Lo afferma il vulcanologo dell'NGV Osservatorio Etneo di Catania, Boris Bank, sul proprio profilo Facebook, rilevando che in questi ultimi 10 giorni ci sono stati circa 200 episodi. Le immagini sono proprio quelle postate sul suo profilo. Inizialmente, spiega il vulcanologo, era attiva solo quella che chiamiamo la bocca della sella, ma nella serata del 21 novembre, per la prima volta si è visto anche qualche debole spruzzo di brandelli di lava da una bocca posta immediatamente a est, ma non si tratta della bocca orientale. Dal 23 novembre l'attività segue fedelmente quel ritmo straordinariamente regolare, coinvolgendo sempre le stesse due bocche e negli ultimi giorni forse anche qualche piccola bocca in più nella zona della bocca della sella. Tuttavia ci sono sempre piccole variazioni da un episodio stromboliano all'altro. Alcuni cominciano con emissioni di cenere, altri con bolle di lava, altri ancora con piccolissimi getti di lava incandescente. Uno spettacolo variegato che non fa mancare a tratti anche forti boati, udibili in alcuni paesi bedemontani, in cui i residenti si sono abituati al tremore di vetri, porte e serrande. Ma quanto durerà? Difficile stabilirlo. E adesso allo spettacolo di altro genere, quello che Mario Biondi, Tananai e la catanese Anna Castiglia regaleranno ai catanesi che vorranno affollare la piazza per il veglione di Capodanno. Saluteranno in tanti, certamente a ritmo di musica, il 2024. Sentiamo Eva Spampinato. Ciao a tutti amici di Catania, non vedo l'ora di festeggiare il Capodanno del 2024 nella mia città in compagnia di tutti voi. L'appuntamento è ovviamente il 31 dicembre in piazza Duomo, sotto le occio. Mario Biondi lancia l'appuntamento sotto l'elefante per la notte di Capodanno e il conto alla rovescia può incominciare. Sarà il crooner catanese, il superospite del palco di piazza Duomo, affiancato da un altro big della musica nazionale, amatissimo dai giovani e acclamato al festival di San Remo, Tananai. Saluteranno insieme l'arrivo del 2024 con una piazza che si perannuncia già sold out. Mario Biondi e Tananai non saranno soli, ad affiancarli tre giovani promesse della musica catanese. Anna Castiglia, reduce dal successo di X Factor, Elena Manuele e Sop. Ci piace immaginare Catanio come una grande chioma che in qualche modo dia riparo a tutti i catanesi e in questo senso abbiamo organizzato un Natale che permetta anche la dislocazione di eventi in altri quartieri, anche a San Giovanni Galermo, in zone un po' più decentrate per dare un momento di conforto, calore e vicinanza a tutta la cittadinanza catanese. Un grande obiettivo che abbiamo che è quello di inserire il capodanno di Catania all'interno dei dieci capodanni più importanti d'Italia, quindi avere la possibilità di essere presenti con una diretta a RAI o Mediaset e quindi ridare quella dignità che probabilmente Catania aveva un tantino perso negli anni. Questo sarà l'evento clou di un lungo mese di dicembre che vedrà eventi itineranti per tutta la città, teatro, street art, gospel. Anche la città di Messina ha presentato il cartellone, il 28 dicembre in Piazza Duomo ci saranno i Poo, preceduti il 23 da Gabri Ponte e il 21 dicembre da Dolce Nera, mentre la notte di Capodanno appuntamento con i Godfellas che saranno accompagnati da un DJ set. Adesso ci fermiamo ancora, in chiusura c'è il calcio. Per chiudere il nostro TG di oggi, altro successo per il Catania di Lucarelli, questa volta è arrivato in Coppa ai rigori, a danni del Crotone. I rossazzurri approdano così ai quarti, sfideranno il Pescara. Marco Carli. Tre partite e quante emozioni. Lucarelli per il suo modo di essere ha riportato l'entusiasmo ma anche la trepidazione nel seguire le gare. Tutte mai banali, un po' come lui. Catania-Crotone non fa eccezione, 3-3 al novantesimo, poi i supplementari e i rigori in cui si sono imposti i rossazzurri. Siamo andati sotto tre volte, non abbiamo fatto neanche tempo a pareggiare, ci hanno rifatto subito il vantaggio, ma la squadra è rimasta in partita mentalmente, quindi una grande prestazione mentale oggi da elogiare da parte di tutti e quindi queste sono le risposte più belle oltre che il passaggio del turno. La cronaca parla di un Crotone che ha saputo sfruttare tutte le occasioni, a partire dalla prima cross da destra e Tribuzzi, lasciato colpevolmente solo, che indirizza in rete. Sei minuti sul cronometro ma il Catania reagisce e merita il pareggio che arriva in avvio di un rocambolesco secondo tempo. L'asse conosciuto ai tifosi fin dall'anno scorso, sovrapposizione cross di Rapisarda, ottimo movimento di De Luca che finalmente trova il suo primo gol al Massimino. È stato emozionante, quindi puoi segnare davanti ai tuoi tifosi è qualcosa di magico, dai. Il vantaggio però dura pochissimo, Tuminello di testa sorprende un Livieri non impeccabile e non solo in occasione di questa rete. Il Catania deve rifare tutto da capo e ci riesce. Questa volta sfonda a sinistra con la combinazione De Luca e Mazzotta, l'esterno serve al centro Dubiscas, 2-2. Il diagonale di Bruzzaniti, con una difesa non ben disposta del Catania, conferma la concretezza del Crotone. Mancano 20 minuti e il Catania deve ancora recuperare. E bravo Mazzotta a conquistare il rigore che Di Carmine trasforma. Dopo i supplementari sono proprio i tiri dagli 11 metri a decidere la sfida. Il Catania segna con Chiricozza. Nell'ate Castellini l'errore decisivo è di Petriccione. Finale 6-5 per i rossazzurri che nei quarti troveranno al Massimino a metà dicembre il Pescara, mentre l'entusiasmo, figlio dei risultati, continua a crescere. Il Palermo reduce da un cammino disastroso, si appresta ad affrontare un calendario difficilissimo per chiudere il 2023. Sentiamo tutto nel servizio di Marco Gullà. Il Palermo reduce da un cammino disastroso, 5 punti nelle ultime 6 partite, si appresta ad affrontare un calendario difficilissimo per chiudere il 2023. A dicembre il Rosanero giocheranno contro Catanzaro, Parma, Pisa, Como e Cremonese. Fatta eccezione per il Pisa, che non ha iniziato nel migliore dei modi, le altre squadre si trovano tutte nelle posizioni di vertice della classifica. Club come Catanzaro e Como sono le sorprese, che stanno stupendo per il gioco e i risultati. Parma e Cremonese sono invece delle serie candidate per la promozione diretta. La prima tappa, appunto, sarà quella di domani sera al Barbera contro il Catanzaro, che sarà seguito da oltre mille tifosi. Un match delicatissimo, se si considera che la formazione a Rosanero non riesce più a vincere al Barbera e ha nette difficoltà a creare gioco. Conini recupera Di Francesco, ma non in signe. Probabile formazione, Piascelli tra i pali, Mateio, Lucioni, Marconi e Ljung a comporre la difesa, con Nedolzauro in panchina, Cullibali, Stullaz e Gomez a centrocampo, Di Mariano, Brunori e Di Francesco in avanti. Catanzaro, che sta facendo molto bene e che arriva dal successo nel derby con il Cosenza, in avanti conferma per la coppia Iemmello e Biasci. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque Sicilia. 24 finisce qui. A tutti voi grazie per averci seguito e buona serata.